Un incendio divampato nella mattinata di venerdì 15 ottobre poco dopo le 10 in via civica San Martino Canavese. Le fiamme hanno avvolto una struttura, pare una travata, situata nei pressi del municipio e stavano intaccando anche il tetto di un casolare. Sul posto stanno ancora operando diverse squadre dei vigili del fuoco di Ivrea e Volpiano. Al momento dello scoppio del rogo in casa non c'era nessuno. Un incendio, un incendio, un incendio, un incendio. Un incendio, un incendio. Un incendio, un incendio.